8 alunni positivi, 8 classi in isolamento su 20. Il Comune di Teramo ha deciso di chiudere, dopo la Noi Lucidi, anche la scuola Media Zippilli. Sì, assolutamente, era un provvedimento dovuto dopo le note che abbiamo ricevuto nella giornata di ieri. Una richiesta di valutazione del rischio epidemiologico da parte della dirigente Valeri e successivamente la risposta da parte dell'ASL con la quale ci venivano comunicati questi numeri. 8 classi su 20, quindi quasi il 40% delle classi interessate. Sono 115 i tamponi in attesa? Esattamente, quello è il numero che più di tutti preoccupa, 115 ragazzi in attesa di tampone con 8 casi di positività già accertata. Quindi è ovvio che il rischio potenziale è un rischio estremamente alto, come del resto stiamo verificando con i numeri della Noi Lucidi, dove le prime classi sono già andate a tampone e ad oggi con una prima parziale effettuazione di tamponi siamo arrivati a 22 casi positivi. Quindi parliamo certamente di numeri elevati, che è giusto che creino preoccupazione nelle famiglie, nella scuola, nelle istituzioni. Quindi è giusto intervenire con tempi rapidi, così come abbiamo fatto anche sulla Zippilli. Statisticamente anche alla Zippilli si potrebbero alzare i numeri? Se consideriamo il rischio che c'è in questo momento, dove circa il 18% dei pazienti sottoposti a tampone risulta positivo, è ovvio che arriveremo oltre le 20 unità anche in questo caso, quindi era necessario intervenire con tempestività. Avete monitorato tutte le scuole di vostra competenza? Qual è la situazione, soprattutto se ci sono scuole a rischio di usura? Abbiamo avviato, oramai da qualche settimana, un monitoraggio costante settimanale, chiedendo alle dirigenti di farci un attimo il punto, un riassunto dei casi positivi che si sono verificati in ogni singolo plesso. Ad oggi ci sentiamo di escludere altre situazioni critiche, almeno nelle prossime ore, in virtù del fatto che in ogni istituto, in ogni plesso, sono casi sporadici quelli delle classi posti in isolamento. L'attenzione oggi è proprio concentrata sulle classi, prima ancora che sugli studenti positivi, perché quello ci dà il rischio potenziale, ci dà il rischio degli studenti coinvolti, che sono numeri a volte in crescita continua, come abbiamo visto in questi due casi, dove oltre 100 sono i ragazzi e le ragazze che dovranno essere sottoposti a tampone. Quindi quello è il vero dato che sta attirando l'attenzione dell'azienda sanitaria e dell'amministrazione comunale, per evitare che in qualche modo queste scuole possano diventare dei focolai di rischio. Quindi su questo stiamo intervenendo. Ad oggi non abbiamo numeri preoccupanti, perché abbiamo sporadici casi in tutte le scuole, però è evidente che a fronte di migliaia di studenti iscritti si tratta di un rischio veramente marginale. Altre sono invece le considerazioni su tutta la tenuta del sistema scolastico, che in questo periodo sono in essere da parte di tutte quante le amministrazioni. Grazie a tutti.